Come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, a iscrivervi e a lasciare un like, abbiamo sistemato il microfono, scusate, ripeto commentate e iscrivetevi numerosissimi da questa parte siamo quasi 20.000, forza 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 forza, allora conferme anche dalla Francia rispetto alla nostra anticipazione questa mattina su Milanello, cioè sul fatto che, ecco, nei pensieri del Milan dopo l'arrivo di Zata Libraimovic, ma anche prima, ma forse c'era già un po' anche il suo zampino, c'è Tiago Motta per la panchina della prossima stagione, allenatore ex Spezia, poi adesso al Bologna da un paio d'anni, che quest'anno sta facendo un campionato pazzesco con il Bologna che è quarto, a quattro punti dal Milan che è terzo, a pari punti dalla Roma, squadre che hanno un materiale umano a disposizione decisamente superiore. L'idea Tiago Motta c'era già e ora sembra che Libraimovic ne sia uno sponsor, lo scrivono anche in Francia, e quindi ecco una pista molto seria da seguire, l'ingaggio è abbordabile, il calcio è piacevole, molto organizzato a livello di fase difensiva, ma anche a livello di produzione là davanti. Il Bologna ha subito meno gol del Milan, mi sembra sei gol in meno del Milan, ne ha fatti meno, ma ha anche giocatori diversi, allenatore che è bravo a valorizzare i giovani, e chissà, magari potrebbe portarsi con sé quel Zirkze che servirebbe tanto al Milan, a maggior ragione se riuscirà a segnare con ancora più continuità, cosa che sta facendo. Ha fatto sette gol, uno in meno di Giroud, che però ha tirato due calci di rigore in più. Gioca a un calcio semplice, con questa rosa potrebbe applicarlo, con interpreti ancora migliori, un modulo che è un 4-2-3-1 sostanzialmente, o 4-3 a seconda di come lo vedi, e che quindi sarebbe perfettamente applicabile anche qui al Milan senza dover stravolgere la rosa. Ditemi che ne pensate, pista seria, vera, da seguire con attenzione Tiago Motta a Milan. Commentate, lasciate un like e iscrivetevi numerosi, per me sarebbe un grande sì. Davvero bravo!